appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale è da poco terminata la registrazione della quinta puntata del serale di amici nella puntata che vedremo in onda questo sabato ci sarà un cambiamento nel regolamento del serale si passerà infatti da due a una sola eliminazione per puntata ma andiamo subito a dare uno sguardo a quanto vedremo sabato la prima manche ha visto scendere in campo la squadra di anna pettinelli e veronica peparini contro quella di rudy zerbi alessandra celentano l'allievo a finire a rischio eliminazione è dario nella seconda manche rudy alessandra decidono di sfidare i cucatodo e al ballottaggio finisce serena l'allievo ad andare a rischio eliminazione nella terza ed ultima manche è carola prima del rientro in casetta degli allievi i professori hanno avuto la possibilità di salvare uno tra dario carola e serena ed hanno deciso di salvare serena sabato sera alla fine della puntata maria annuncerà chi tra dario e carola dovrà abbandonare il programma gli ospiti musicali della puntata sono in follia versione riveduta corretta dei dear jack che hanno visto il rientro di alessio bernabè nel gruppo e voi che ne pensate fatemi sapere per chi fate il tifo e chi vorreste eliminare al prossimo video ciao ciao